sì ma sta facendo tutto il buco c'è sta facendo dentro un buco esagerato sta facendo ah ma c'è nessun altro sulla no che si sta ammazzando e si era fermato sarà il marco sicuro è la scorta viene ancora vieni giù vito dai ancora ancora vieni fino a qua basta che dopo va giù non è un altro non è un altro non è un altro non è un altro ma io voglio non dar diritto ne facciamo un'altra Seve facciamo un'altra che è vissuta lì bravo e la tagliamo fuori da qua c'è già qua un sentierino di qua vedi che vai su su ma lui spara via se non prende la pianta ancora come l'altra volta certo andiamo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.